Benvenuto su questo video. Questo video è il primo di una serie di video nei quali verranno trattate alcune opinioni di eminenti futurologi sulla possibilità se siamo veramente vicini a una singolarità tecnologica, cioè all'emergere di una intelligenza artificiale prima simile a quella umana e poi incommensurabilmente superiore, e sulle prospettive e possibili conseguenze di essa. La singolarità tecnologica, comunemente, viene definita come quel momento nello sviluppo di una civiltà in cui il progresso tecnologico accelera in una maniera tale da superare la capacità degli esseri umani di comprenderlo e valutarne la portata. Ad avviare questo progresso tecnologico accelerato ci sarebbe la realizzazione, volontaria o involontaria, di un sistema dotato di intelligenza artificiale quali super computer, rete di computer, sistemi uomo-macchina integrati ecc., con la capacità di automiglioramento ricorsivo che, in breve tempo, per la possibilità di progettare macchine via via sempre migliori, porterà ad una intelligenza sovraumana. Sulla singolarità tecnologica sono in molti tra scienziati, filosofi, esperti in vari campi tecnico-scientifici di fama mondiale, ecc. ad essersi pronunciati, il più noto di essi è Raymond Kurzweil, informatico, saggista ed inventore statunitense. Il primo libro di Kurzweil sulla singolarità tecnologica intitolato The Age of Intelligent Machines, l'era delle macchine intelligenti, fu pubblicato nel 1990. L'opera discute la storia dell'intelligenza artificiale e formula previsioni su probabili sviluppi futuri. Nel 1998, Kurzweil pubblica The Age of Spiritual Machines, l'era delle macchine spirituali, che si concentra nell'approfondire le sue teorie sul futuro della tecnologia. Buona parte del libro si concentra sul percorso verosimile dello sviluppo dell'intelligenza artificiale e delle future architetture dei computer. Ed arriva a fare delle analisi sulle tendenze a lungo termine dell'evoluzione biologica e tecnologica. La singolarità è vicina è un libro pubblicato da Raymond Kurzweil nel 2005, nel quale ripropone ed approfondisce le sue teorie fondamentali, in cui espone, in modo sistematico ed articolato, la tesi secondo cui la singolarità tecnologica si verificherà nell'arco della prima metà di questo secolo. Secondo i suoi calcoli, entro il 2030, l'intelligenza artificiale riuscirà a trascendere i limiti del cervello umano, fermo a una capacità computazionale di soli 100 trilioni di connessioni, tra l'altro piuttosto lente. Da quel momento in avanti, tutto cambierà in modi e tempi estremamente rapidi. 16 anni più tardi, nel 2045, avverrà la cosiddetta singolarità tecnologica, evento che consentirà all'uomo, ormai ibridatosi con le proprie macchine, di superare problemi che lo assillano da sempre, limiti cognitivi, deficit morali, scarsità di beni, invecchiamento, malattie, morte. Un'utopia ci attenderebbe, dunque, proprio dietro l'angolo. In questo libro, come nei due libri precedenti, Ray Kurzweil tenta di fornire uno sguardo d'insieme di come sarà il prossimo futuro, caratterizzato fortemente e prevalentemente dallo sviluppo della tecnologia. L'autore tratta della prossima singolarità tecnologica, e di come essa ci permetterà di migliorare i nostri corpi e le nostre menti attraverso la tecnologia. Egli chiama la singolarità tecnologica, la singolarità GNR, in quanto sarà un fenomeno risultante dalla combinazione di tre importanti tecnologie del ventunesimo secolo, la genetica, le nanotecnologie e la robotica, che include l'intelligenza artificiale. I quattro assunti, che permeano il libro, sono i seguenti, 1. La singolarità tecnologica è un traguardo raggiungibile per l'umanità. 2. Attraverso la legge dei ritorni acceleranti, la tecnologia progredisce attraverso tale singolarità ad un tasso esponenziale. 3. Le funzionalità del cervello umano possono essere viste come tecnologie che possono essere implementate nel prossimo futuro. 4. I progressi medici rendono possibile per un numero significativo di persone dell'attuale generazione, baby boom, di vivere abbastanza a lungo, da vedere la crescita esponenziale della tecnologia, fino ad intersecare e sorpassare la capacità di elaborazione del cervello umano. Il concetto base, sul quale Raymond Kurzweil sviluppa la sua teoria della singolarità GNR, è quello della legge dei ritorni acceleranti che si può schematizzare nei seguenti punti. 1. Lo sviluppo consiste nell'applicazione delle risposte positive, in quanto derivate da una fase di progresso, e che queste risposte positive costituiscono la base per lo sviluppo successivo. 2. Il processo evolutivo comporta che con il tempo l'ordine di grandezza delle informazioni che vengono incluse nel processo di sviluppo aumenta. 3. La conseguenza è che l'innovazione tecnologica incrementa esponenzialmente. 4. Il ciclo di risposte positive, di un particolare processo evolutivo, diventano il trampolino di lancio per un ulteriore progresso. Ciò provoca un secondo livello di sviluppo esponenziale ed il processo di sviluppo esponenziale cresce esso stesso in maniera esponenziale. 5. Lo sviluppo biologico è uno di tali sviluppi. 6. Lo sviluppo tecnologico fa parte di tale processo evolutivo. Inoltre lo sviluppo tecnologico è una conseguenza ed una continuazione dello sviluppo biologico. 7. Lo sviluppo di una determinata tecnologia, come per esempio l'aumento del numero di transistor nei circuiti integrati per rendere più potenti i computer, garantisce crescita esponenziale fino a che non esaurisce il suo potenziale, dopo di che avviene un cambiamento che permette allo sviluppo esponenziale di continuare. In poche parole la legge dei ritorni acceleranti di Ray Kurzweil dice che il tasso di progresso tecnologico è una funzione esponenziale e non lineare del tempo, e che l'assunto fondamentale di tale legge è che nell'ambito dell'evoluzione tecnologica di una civiltà, ogni nuovo progresso renda possibili diversi progressi di livello più elevato, invece che di un singolo progresso, e che l'interazione tra questi progressi alimenta lo sviluppo esponenziale complessivo della tecnologia. La conseguenza di tutto questo porterà alla singolarità GNR, durante la quale si avrà il prossimo stadio dell'evoluzione umana, che consisterà nell'integrazione sempre più spinta ed estesa nel corpo umano, di strutture tecnologiche derivanti dalle nanotecnologie e dalla robotica, oltre a miglioramenti genetici. Cioè i prossimi stati dell'evoluzione umana sarà tecnologica e non più biologica come lo è stato finora, in quanto l'evoluzione biologica sarà diventata troppo lenta ed inadeguata agli scenari che si presenteranno nella singolarità GNR. Il confine tra umano e macchina si sfumerà come conseguenza dell'evoluzione umana per via tecnologica. Impianti cibernetici aumenteranno fortemente le capacità cognitive e fisiche umane e consentiranno l'interazione diretta tra umani e macchine, oltre a prolungare la durata della vita, mediante nanobot diffusi in tutto il corpo, che ripareranno qualsiasi danno al corpo umano. Cioè una sostituzione graduale delle parti biologiche con parti non biologiche, un processo che ha già avuto inizio, con l'introduzione di dispositivi come gli impianti neurali per ovviare a disabilità e malattie, proseguirà con l'introduzione di sciami di nanobot nel corpo umano, inizialmente per applicazioni mediche ed anti-invecchiamento, poi nanobot sempre più perfezionati si interfacceranno con i nostri neuroni biologici per potenziare i sensi, darci una realtà virtuale e potenziata all'interno del sistema nervoso, rendere i nostri ricordi perfetti e svolgere altri compiti cognitivi di routine. A quel punto saremo cyborg. E da quel momento nei nostri cervelli la parte non biologica comincerà a espandere la sua potenza in modo esponenziale. Quando la parte non biologica della nostra intelligenza sarà milioni di volte più potente di quella biologica, la nostra coscienza sentirà ancora la necessità di affidarsi ai neuroni superstiti. Quando cesserà di farlo, la nostra trasformazione in macchine spirituali immortali sarà completata. Pensare che tutto questo dovrebbe accadere tra pochi decenni potrebbe farci venire le vertigini o, al contrario, farci sorridere. Ray Kurzweil alla fine estende e generalizza questi principi a tutto l'universo, suddividendo la sua evoluzione in sei epoche. Prima epoca, fisica e chimica, informazione nelle strutture atomiche. L'energia primordiale raffreddandosi forma quarche e leptoni che a loro volta formano protoni, neutroni, elettroni, eccetera. Questi sono organizzati in atomi, che a loro volta formano molecole, e che atomi e molecole costituiscono corpi, stelle, pianeti e così via. Seconda epoca, biologica, informazione nel DNA. La creazione di un metodo digitale, per registrare i risultati degli esperimenti evolutivi, che è il DNA, che fornisce l'informazione per la creazione dei corpi biologici alla loro modifica nel tempo in base ad un processo di adattamento all'ambiente. Terza epoca, cervelli, informazione in strutture neurali. L'evoluzione delle specie ha portato alla nascita di specie con il pensiero razionale, australopiteco, Homo erectus, Neandertal ed infine l'Homo sapiens. Quarta epoca, tecnologica, informazione nei sistemi hardware e software. Questo ha spostato in maniera decisiva il paradigma dalla biologia alla tecnologia. Quinta epoca, fusione tra la tecnologia umana e l'intelligenza umana, la tecnologia padroneggia i metodi della biologia, inclusi quelli dell'intelligenza umana. È il passaggio dall'intelligenza biologica a una combinazione di intelligenza biologica e non biologica. Sesta epoca, il risveglio dell'universo. L'intelligenza umana enormemente espansa, per lo più non biologica, si diffonde in tutto l'universo, riorganizzando sempre più quantità di materia ed energia, in strutture e sistemi di elaborazione superiori. Esaminando i tempi di questi passaggi, si può notare come il processo evolutivo acceleri continuamente. L'evoluzione della vita sulla Terra, per esempio, ha richiesto parecchi milioni di anni per il primo passo. Gli organismi monocellulari primitivi, ma dopo c'è stata un'accelerazione nel passaggio agli organismi pluricellulari, via via sempre più complessi, fino agli organismi intelligenti. Ora l'evoluzione biologica è diventata troppo lenta rispetto allo sviluppo tecnologico creato dall'uomo, che usa i suoi stessi risultati per andare avanti in maniera nettamente più veloce di quanto non possa fare la natura. La prima metà del ventunesimo secolo è e continuerà ad essere caratterizzata da tre rivoluzioni sovrapposte. La genetica, la nanotecnologia e la robotica, che ci porteranno nella quinta epoca, cioè all'inizio della singolarità tecnologica. Attualmente siamo nelle prime fasi della rivoluzione genetica, avendo incominciato a scoprire i processi dell'informazione che sottostanno alla vita, cominciamo a imparare come si può riprogrammare la nostra biologia. Ad esempio con la tecnica CRISPR-Cas9, per eliminare praticamente le malattie, aumentare drasticamente le potenzialità umane ed estendere radicalmente la vita. Hans Moravec tuttavia sottolinea che, per quanto riusciremo a modificare la nostra biologia basata sul DNA, gli esseri umani resteranno sempre dei «robot» di serie B, nel senso che la biologia non riuscirà mai a eguagliare quello che sapremo costruire tecnicamente, non appena ci saranno perfettamente chiari i principi di funzionamento della biologia. La rivoluzione nanotecnologica ci permetterà di riprogettare e ricostruire, molecola per molecola, i nostri corpi, i nostri cervelli e il mondo con cui interagiamo, ben oltre i limiti della biologia. Tra le rivoluzioni, la più potente è la robotica, robot di livello umano con intelligenza derivata dalla nostra, ma migliorata per superare di molto le capacità umane. La robotica rappresenta la trasformazione più significativa, perché l'intelligenza è la «forza» più potente nell'universo. L'intelligenza, se abbastanza perfezionata, è in grado di prevedere e superare qualsiasi ostacolo trovi sul suo cammino. Ciascuna rivoluzione risolverà i problemi generati da trasformazioni precedenti, ma introdurrà nuovi pericoli. La genetica vincerà le difficoltà connesse alle malattie e dall'invecchiamento, ma introdurrà la possibilità di nuove minacce virali derivate dalla bioingegneria. Quando la nanotecnologia sarà sviluppata a pieno, potremo applicarla per proteggerci da tutti i rischi biologici, ma potrebbe creare la possibilità di un'autoriproduzione incontrollata, che sarebbe di gran lunga più potente e pericolosa di qualsiasi entità biologica nociva. Potremo proteggerci da questi rischi con la robotica sviluppata, ma chi ci proteggerà da un'intelligenza patologica che superi la nostra? Kurzweil non dice che non ci saranno problemi in questo processo, ma resta fondamentalmente un ottimista. È convinto che la singolarità amplificherà anche la nostra abilità di arginare le «inclinazioni distruttive» dell'umanità. Questa singolarità GNR, imminente nel nostro futuro, sta già trasformando sempre più ogni istituzione e ogni aspetto della vita umana, dalla sessualità alla spiritualità. L'attuale sgretolamento dei valori tradizionali e dei dogmi religiosi sarebbe, dunque, un esito delle trasformazioni tecnologiche in atto. Ciò che vediamo è una società che cambia a ritmi sempre più rapidi. Stili di vita che in passato duravano secoli o millenni, ora cambiano nel giro di pochi anni. Anche questo è un «effetto» della singolarità che sta arrivando. In definitiva la singolarità è un periodo futuro in cui il ritmo del cambiamento tecnologico sarà così rapido e il suo impatto così profondo, che la vita umana ne sarà trasformata in modo irreversibile. Pur essendo né utopica né distopica, questa epoca trasformerà i concetti su cui ci basiamo per dare un significato alle nostre vite, dai nostri modelli di business, al ciclo della vita umana, inclusa la stessa morte. Questo è tutto, grazie per la vostra attenzione, e dalla prossima.